The man of the match, the man of the match, Danish man, man of the match for me and for all. Allora bentornati, oggi una breve sintesi ma proprio una cosa veloce, sono stanchissimo appena tornato e sto per andare a cena, quindi una cosa molto rapida. Allora abbiamo vinto Cremona quindi grandissima grandissima prova di maturità del Parma, per me assolutamente campo difficilissimo, ricordiamo che affrontavamo gli ex Zanimacchia, Vasquez in Mudo Vasquez e poi Coda, quindi solo questo vi fa capire oltre al fatto che la Cremonese è appena retrocessa dalla Serie A, il fatto che giocare a Cremona non è per niente facile e siamo riusciti addirittura con grande capabilità a vincerla. Allora partiamo dall'inizio dicendo che il Parma all'inizio non è che mi sia piaciuto molto, diciamo che allora i primi 5-10 minuti ha giocato bene e ha giocato bene ed è riuscita addirittura andare in vantaggio anche se poi annullato, annullato, un gol di Soma a giro in area che diciamo c'è un fuorigioco passivo dall'altra parte i giocatori del Parma e il VAR ha fischiato, ha dato fallo, quindi insomma ha dato fuorigioco quindi ce l'hanno annullato, però sta di fatto che è annullato anche se non so sinceramente spiegarmelo, sempre che il fuorigioco passivo venga punito, ma a me risultava di no, comunque. Partiamo con la Cremonese che dopo questo diciamo inizio molto veloce, molto buono del Parma, ha preso un po' il sopravvento, ma non più di tanto, però ha fatto quelle tre occasioni, coda, tiro al volo in area ma facile facile per Ciccizzola e altri tiri fuori, lo stesso Vasquez va a un tiro alto tipo Meta, tipo Le Stelle, praticamente dei tiri completamente imprecisi, nulla di che. Parma che si accontenta, a parte pressando bene come vi dicevo i primi minuti, pressando alto la difesa della Cremonese, dopodiché arretra a centrocampo e gli resta praticamente da fiducia la Cremonese, un primo tempo con una serie di batti e ribatti di qua, ma gioco abbastanza, cioè non un granché, non molto spumeggiante, gioco un po' soporifero, un gol annullato anche la Cremonese, qua per un fuorigioco evidente di mezzo metro, qua il Vaci mette vent'anni a farlo vedere, il replay, ma alla fine si vede chiaramente qua non ci sono dubbi, proprio fuorigioco netto. Quindi un gol annullato a testa e un primo tempo, devo dire, rispetto al solito, abbastanza deludente soporifero, un po' tipo quella della partita coloreggiavano. Dopodiché cambia tutto però, cambia tutto con una ripresa bellissima, nel senso che come avevo preventivato nella magocronaca che ho fatto della partita, le squadre si stancano, le squadre man mano che passano i minuti sono più stanche e questo giova, giova al gioco perché si allargano gli spazi, le squadre non sono più raccolte in pochi metri e quindi cominciano a vedersi delle azioni di contropiede e qua arriviamo al gol, al primo gol di questa partita col Parma che va in vantaggio, sulla sinistra riceve Arnani, praticamente quasi da fermo lascia partire un missile alla Roberto Carlos del limite dell'area e questo missile va dritto verso il palo alla destra del portiere della Cremonese e in realtà a mezza traiettoria o poco più devia in un attimo di mezzo metro almeno e andando nella direzione opposta, quindi palla che così, il portiere va di qua, se la ritrova di là, c'è poco da fare, una strafilata, secondo me tiro di culo, perché io lo dico, per me tiro di culo di Arnani, però è andata bene e ci troviamo inspiegabilmente in vantaggio senza aver fatto poco, niente fino a lì, però da lì ripeto la partita cambia, anche la Cremonese insomma ci sono azioni di qua e di là, più del Parma secondo me, però la Cremonese riesce andare ai noi a pareggiare di culo, perché c'è da chiamare le cose con il loro nome, punizione, posizione di Castagnetti, va col suo sinistro, Arnani dopo averci deliziato con questo gol di culo alla Roberto Carlos, ci delizia con un tocco quasi di tacco per deviare la punizione, interviene sulla punizione di Castagnetti, pallone che andava alla sinistra di Ciccizzola, indirizzato col sinistro di Castagnetti e ce lo ritroviamo alla destra di Ciccizzola, dentro al sacco, quindi praticamente la Cremonese pareggia come scritto in Mago Cronaca con gol di Arnani in pratica, quindi è come se fosse autogol di Arnani diciamo così, fondamentalmente quindi Arnani fa il gol del vantaggio e il gol del pareggio della Cremonese e quindi rovina diciamo la sua potenziale buona partita con questa cosa qua, alla fine gli posso dare un 6 giusto per incoraggiamento, se no si beccava tanto 5 perché non ha fatto praticamente niente in tutta la partita a parte questa cosa qua. Quindi qua due gol, ci becchiamo il pareggio su punizione e qui potevamo aspettarci un Parma che moralmente accusa il colpo. L'accusa sì, ma 5 minuti e questa è una cosa veramente positiva, dopodiché la partita riparte come se nulla fosse accaduto e le azioni diciamo per la Cremonese c'è ben poco. Alla fine ci ritroviamo invece con il Parma che in contropiede, non contropiede di quelli proprio contropiede contropiede, però un'azione che riparte in velocità, ci ritroviamo Som che fa il suo ennesimo bello strappo e dopo questo bello strappo dà un tocco delizioso per Dennis Mann che si sovrappone, entra in area di rigore e fa uno scavetto bellissimo, pallonetto al portiere, scavetto di mezzo metro, un metro, quello che ha, scavalcare il portiere, stavolta non fa come l'ultima partita in cui praticamente l'ha tirata addosso al portiere ma fa lo scavetto, cosa che doveva fare già anche l'altra volta. Stavolta invece fa il gesto tecnico, gesto tecnico che vale, vale, dopo essere stato annullato inizialmente, visionato dal VAR poi si vede che è gol, è in posizione regolare Dennis Mann che quindi va a segnare con questa bella tecnica va a segnare il 2-1 per il Parma. Devo dire anche che siamo stati anche lì un pizzichino fortunati ma non è niente di incredibile nel senso che vedendo il replay si vede che Dennis Mann è tenuto in gioco per questione di poco, magari 10-20 centimetri da che cosa? Dal difensore della Cremonese che si è allungato, quasi in spaccata per dire allungato, il piede, moltissimo, per cercare di intercettare l'assist di Somme che andava Dennis Mann ma si è proprio esteso questo piede talmente tanto che l'ha tenuto in gioco e quindi niente, grazie a questo piede allungato nel tentativo disperato di bloccare l'assist di Somme, non è fuori gioco e quindi il Parma è in vantaggio. Allora, andiamo alle conclusioni, conclusioni che parlano di un Parma che resta primo in classifica giocando a Cremona, espognando il campo della Cremonese, quindi grandissima partita che dà un morale secondo me incredibile, l'ho detto anche in Mago Cronica se deve finire così, è finita così e secondo me dopo il pareggio terribile su autogol non era per niente facile, anzi era più facile beccarlo, invece noi abbiamo rischiato solo con un colpo di testa alla fine di Ciofani e basta che dentro l'ha, l'unica occasione vera che potrebbe tramutarsi in gol della Cremonese è quello, Ciofani dentro l'area a 5-6 metri da sbatte fuori, non marcato proprio bene e però niente, l'unica occasione vera è stata questa della Cremonese, per il resto, per il resto dobbiamo raccontare di questo Parma che va a fare altri tre punti, mantiene le distanze sugli inseguitori, in particolare Palermo e adesso andrà a giocare un'altra partita difficilissima contro il Venezia e qua, io ve lo dico, a me basterebbe il pareggio, detta tutta perché qua stiamo affrontando le più grandi, diciamo dei primi posti secondo me della classifica, cioè Palermo, Venezia e la stessa Cremonese che secondo me salirà, cioè salirà più in classifica di quello che è adesso, assolutamente, e quindi dico che secondo me anche pareggiare a Venezia andrebbe bene. Chiudo dicendo quindi che, che cosa? Niente, sulto finale, il sulto finale che grazie a Dennis Mann, Dennis Mann che in questa partita, come la miniatura che ho fatto ci ricorda, diciamo va osannato, diciamo che Dennis Mann, Mann of the match per me assolutamente, ma non solo perché ha fatto il gol che ha diciamo ha regalato la vittoria al Parma, ma perché è da inizio campionato che non sbaglia una partita, è da inizio campionato che Dennis Mann comunque ci sta mettendo impegno e soprattutto sta saltando l'uomo molto di più, sta giocando molto di più per la squadra, sta correndo molto di più di prima, in poche parole Dennis Mann è un altro giocatore. Ah, chiudo con un'ultima cosa, allora mi dispiace Dennis non aver fatto in tempo a farti la figurina anche tua, perché ti avrei volentieri ringraziato di persona, lo faremo un'altra volta eventualmente, però cosa volevo dire? Scusate, ho fatto pausa perché non mi ricordavo. Allora cosa volevo dire? Volevo dire che ho notato che qualcuno lo dice, adesso per me è sicurezza, ma si sente in rete, che c'era qualcosa nel Parma che faceva sì che la squadra non era squadra, cosa che invece quest'anno è. Che cos'è questa cosa qua? L'abbiamo vista dai due falli reciproci di Bernabè e Vasquez. Allora, prima abbiamo un Bernabè che entra da dietro su Vasquez, ma puoi far male quella entrata così. Dopodiché, dopo un tot di minuti, Vasquez si vendica, dopo poco, con un fallaccio da dietro molto peggio di quello di Bernabè, secondo me viene ammonito, ma da cattivo proprio. Quindi secondo me, diciamo, fra i due non scorreva assolutamente buon sangue, prima cosa. Questa è stata veramente l'impressione, non era una cosa solo agonistica di questa partita, perché non si entra così su un compagno, neanche se è tuo avversario. E quindi questo scambio reciproco di fallazzi da parte di Bernabè e Vasquez, per me, è più che una prova. E quindi secondo me, in poche parole, confermo che più di un giocatore gli stava sui maroni Vasquez. Stava sui maroni perché probabilmente o per a pelle, o perché comunque vedevano che vanificava il gioco, molte volte con i suoi tacchettini e rallentamenti, e gioco la palla, faccio le veroniche e alla fine sono sempre lì e io la do indietro. Quindi che non servono a un calzo, o peggio ancora, faccio perdere dei palloni sanguinosi, poi magari becchiamo gol. Risultato, senza Vasquez, gioco più fluido, gioco di squadra, i giocatori sembrano volerse bene, si passano il pallone, si fanno gli assist, cosa che con Vasquez ogni volta, questo qua reclamava la palla, se non gliela davi si incazzava con una Iena. Quindi secondo me squadra che gioca molto più leggera e veramente secondo me sono molto più squadra, molto più amici di prima, adesso che si è levato dalle scatole Vasquez. Mi spiace per te, è mudo, ma secondo me qualcosa sotto questo profilo ti mancava, perché se no avresti cambiato un po' modo di giocare anche, ma è accettato magari da qualcuno qualche suggerimento, che secondo me ti avranno provato qualcuno a dartelo, ma alla fine ti ha detto il campione sono io, datemi la palla e boh. Non so come sia andata, ma sta di fatto che vabbè, chiudiamo con questa considerazione. Grazie per l'ascolto, mi piace il video se potete, commenti al video se volete e noi ci rivediamo alla prossima occasione. Forza Parma, grande Parma, grande Dennis e che la magia sia con voi. Ciao!